Ciao ragazzi, oggi scopriamo insieme le creazioni in resina che ho realizzato utilizzando gli stampi acquistati sul sito Aliexpress dal negozio Olga Shop. Vi ricordo che questo video è stato comunque inventato da Erika Kawaii, che saluto, ciao Erika, e iniziamo subito. Allora, partirei da questo stampo che ho tanto desiderato, che è quello con l'unicorno. Come intravedete già ci sono le stelline, eccolo qua, molto carino, lucido, bello, è venuto perfetto, poi, questo dovrebbe essere l'orsetto, che carino, guardate, è veramente venuto carino, qua avrei dovuto scrivere, perché ha il cuoricino con la scritta Love, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, no, non si vede più di tanto, e magari avrei dovuto colorarlo di un altro colore, magari lo colorerò adesso in bianco, così risalta, però di questo colore è venuto veramente troppo carino, poi abbiamo i due croissant, uno l'ho fatto più chiaro e uno più scuro, poi questo è un cuore, carino, guardate come è dettagliato, le due ali, belle, poi avevo preso questo che se non ricordo male, e un cestino, vediamo se non è venuto, no, qua non è venuto perfetto, si vede che la resina non è colata, però volendo potrei eliminare questo pezzo, quindi verrebbe questo cestino, proprio magari anche da fare delle decorazioni, dove mettere, non so, la frutta, questi vedete, le brioche, secondo me diventa carina come idea, continuiamo, ci sono questi due che sono i due mini di pan di zenzero, uno maschio e una femmina, carino, devo colorare gli occhi, e la bimba, sono veramente carini insieme, poi questo è il gatto, bello, devo colorare i dettagli, però è molto simpatico, poi avevo il tris del cupcake, allora questa è la base, anzi no, scusate, questa è la base della crostata, ecco qua, l'ho fatta tipo color cioccolato, come vedete è molto dettagliata, questa mi piacerebbe poi decorarla con la panna e mettere qualche glitter, qualche decorazione, questa è la base del cupcake che vi dicevo, quindi allora questa è la base, semplice, poi sopra c'era questa ciambellina, diciamo, che ho fatto più chiara, quindi va posizionata così, e sopra la panna, che è questa, e l'effetto sarebbe così, sicuramente questa sarà stata una gomma da cancellare, dove lei ha fatto appunto lo stampo, andiamo avanti, allora questa dovrebbe essere la fragolina, eccola qua, è venuta veramente molto carina, mi piace, la mettiamo nel cestino, non ci sta, ecco, poi cosa ci manca, allora, questa che è la coccinella, qua dovrò rimanere, anzi no, ecco, perfetto, così, molto carina, colorerò poi dopo i dettagli, qua abbiamo due fiorellini, mi piace molto perché questi stampi sono davvero molto lucidi, questo è il cigno, bellissimo, questo è sento veramente stupendo, veramente bello, poi questa è la torta, questa ho provato a decorarla, vediamo com'è venuta, devo dire carina, avevo fatto una parte diciamo più chiara e poi la parte diciamo cioccolatosa sotto, bello, e dovrò rifinire qua la scritta alloviu, quanto carina, poi cosa ci manca ancora, allora qui abbiamo un gelato, eccolo qua, allora il cono, semplice, con la pallina, l'ho fatta in giallo, ecco qua, qui dopo li attaccherò, questo dovrebbe essere il gufotto, vediamo di riuscire a, eccolo qui, oh che carino, è molto dettagliato, tutte le piume, è veramente molto bello, è da limare sotto e poi lo colorerò, poi abbiamo il cagnolino, tesoro, bellissimo, un altro croissant, ecco qua, questo fiocco, dovrebbe essere tipo stile mini, molto carino, poi un fiocco di neve, bello, veramente bello, e infine ho un altro gelato, quindi abbiamo sempre il cono, e questa volta c'è la pallina, ecco qua, che riesco a tirarla fuori, in rosso, ma è alla fragola, ecco qua, così, quindi queste sono le creazioni che ho realizzato, utilizzando appunto gli stampi e acquistati da Olga Shop, vi consiglio il sito perché ha comunque dei bellissimi stampi, come vedete molto lucidi, ben dettagliati, e niente, se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel like, iscrivetevi al mio canale, mi farebbe davvero molto piacere, ci vediamo al prossimo video, un grosso bacione, ciao ciao!